Siamo partiti da scarsa consapevolezza di quello che era il rischio sismico, questo l'ho registrato personalmente nei miei concittadini. Oggi è chiaro che questa proposta, ma tante altre riunioni, tante altre spiegazioni sono state fatte su questo argomento, hanno contribuito e devono continuare perché questo è l'unico modo per poter fondeggiare un fenomeno naturale che è appunto il terremoto. La nuova generazione che deve portare avanti questa problematica dobbiamo necessariamente produrre quelle che sono ricerche scientifiche, anche la costruzione di questa tavola vibrante ha promosso nei giovani un entusiasmo proprio perché hanno potuto mettere insieme quello che è l'aspetto teorico con l'aspetto pratico e questo è stato fondamentale e ho potuto apprezzare veramente nei ragazzi tanto entusiasmo.